Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. Questa è importante, vediamo i grandienteri delle persone che sono più difficile per il cuor. Ora i grandi١i materiali ti danno la possibilità di investire il tuo好不好. Ma stai attentati che poche cose tu hai, poche preoccupazioni. E se tu ti fai straccio le cose durante quattro o�� vide dici degli altri, Di una banda tu puoi sviluppare dei lari, di che altre bande? Tu crei, perché le cose non facilitino i rapporti, tu crei il weight attorno a te e la tua vita è morta. Invece, come ho detto il mio fan. I bensi morai, il gusto di vivere, e il gusto di viesti comprare i bieli, i pensieri, i sentimenti, il gusto di vivere, il gusto di vivere, il gusto di vivere. Ecco, perché il segreto per vivere la vita è proprio quello di dare la vita. E quello che la sua sapeva tanto bene che mai c'è molto cosa in faccia, ha detto che qui che dà la vita, la conserva, e i giorni ha la larga, la lunga la vita, qui che le dà. e qui che le ten per sé, invece, i vengono a manchiare la vita, i vengono a fare le mani. Allora, buon anno, buon 2021, e buone giornate per voi.